la serie di pokémon intanto salutiamoci ragazzi salutiamoci in questa serie di pokémon gaiassoni insieme a rizzo ross 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 idol le ho mandato non non stimo contor per qualcuno di noi da tutti e due non erano gli incontri che volevamo ma non si può fare niente della vita e non c'è io ho preso un atturato uno spill acqua e uno smynor per diventare di grande ghiaccio dei pokémon nettamente decenti tutti e due sono dei tank che tutti potete si va a mettere le spada ma io volevo su ma non lo voleva la bella è che lui ha accontrato il pokémon poi è riuscito quello che voleva anche a me tanto di poco ma dopo i passi mi è riuscito quello che voleva ok allora si intupe la bambina tipo roccia o l'altro no tipo voi tipo roccia o l'altro no tipo voi si è salvi 3 uso Repel ma come ne uso Fremando? come ne uso Fremando? non lo uso Fremando? non lo uso Fremando? non lo uso Fremando? c'è una Fremando anche la Fremando c'è anche la Repel c'è una Fremando 14 Repel 2 Repel 14 Repel cosa sto facendo con questo Repel? lo so ma c'è un altro ruolo no quello è liquido non so c'è un altro ruolo c'è il gole non mi ricordo di dirti qua ma quello io ricordo di dirti qua è un bloccato qui c'è un problema non ci sono non ci sono non lo fanno ok 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 ma di partire sotto la posizione ma di partire sotto la posizione ah questa è la posizione qua ci ha fatto no ah ah ti sta succedendo no ah che sta succedendo chi c'erano 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 chi c'erano 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 e basta se vogliono solo svegliere e basta se vogliono solo svegliere c'erano 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 come c'erano 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 ce c'erano d'o no devi avere più di 20 più di vita si sono ancora 40 è forte quanto fai la nostra programma Era il degli sceuori di riesgo a tutti i corretti del riktigio, e poi fa l'altro il resto del giro di riesgo. Ma una cosa vicina, un po' come ha di ritmarci, ma non ti chiede molto. Dice, non ti chiede molto. Dice che hai bisogno da cercare di ritorno? No, non ti chiede molto. Dice, come hai bisogno da cercare di ritorno? Non ti chiede più le ritorno. Ma che tipo hai? acqua sicuramente è un pezzi non è possibile perché ho fatto tutti i modi possibile no 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 io sono come un teatro è un po' simile io ce l'ho 14 no ce l'ho 14 adesso l'usciardo potrei una tre su monagro matrice ma è il rock smash si deve stare bene anche il pop la tua il 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 lu il 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 Inoltre posso dire su questa grazia Mi ricordo che ci fai qui Questo è il tipo di occhio Sì mi ricordo Ci sono un video c'era una cosa per soffia no 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 tanto no 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 eccolo bello eccolo bello che ci fai qui devi sapere che cosa hai che cosa hai mi dico si combattono si mi ricordo no si vai poi fatti no e curare tanto per quei frutti non ti combattono subito lo spazio eccolo bello il blog è riuscito devi sapere che cosa hai poi si poi ucciso baltoj che c***o che c***o che c***o per curare curare che tipo è baltoj che tipo è baltoj baltoj che c***o non ci speriamo eh 3 4 4 di 5 non è morto perchè fratello? c'è dopo mi riposizia ti posso dire anche io sono 11 i miei cittadini c'è 12 no io ho 11 io ho 11 hai fatto male hai fatto male cosa dove c'è? oddio che paura ho paura non è morto perchè franquillo ma io mi faccio un po' ma io mi faccio un po' ma io mi faccio un po' come si ha un po' elettro ma è sta qua ma poi mi faccio un vino che mi chi può acqua questo vino è un po' dove? quello che mi serve elettro non si sapevo ma è sta vedi che quanti c'è vedi che quanti c'è sei più veloce è uno sui altri sei tipo due ma non si fa non si fa ma cosa c'è? cross o no non è più veloce se c'è l'abilità sei mai così cos'è un colpo non ci fa non ci fa più forte più bene sì è tutto che se sei più veloce un colpo più bene ah non sei se questo è tutto ma veramente se stessi mi fa che 4x tipo fuoco è il momento di morire un nuovo progetto non esce tu non esce dai dai tu non esce tu non esce è un po' troppo non esce non esce non esce puoi metti un tipo su alto non c'hai? no e dove è? non ti vanno e mi prendi un po' troppo si è un po' troppo lo scherzo ma c'è tutto C'erano tutti sicuro fai lucciarmi cosa ti preferi? non mica lo sessi non lo sessi no frost loss ma è ancora di tutto è tipo super cifra e poi si lo so si lo so oh via ventissima non cianino si scappia pur si oh oh eppure io sono il livello 24 io ho quasi ucciso ma mi sa fai un giro attacca mi sto facendo danno con ventissima come sempre salva ho ancora super pozione no mi scherzo è più veloce si ora ecco il sito cosa fai una palestra in una zona di ghiaccio perché va freddo ciao ciao e poi la palestra il tipo fuoco c'è? è leone dei lavetto è leone dei lavetto lavetto mentre abbiamo passato il navio questa è l'ambiente ma non posso sono qui di questo episodio di tutti ci sono il prossimo episodio. Ciao ciao ciao